Si è aperta oggi pomeriggio a Fano la tre giorni della festa dei socialisti. La giornata di domani sarà dedicata ai tavoli tematici, le sfide dei socialisti per il futuro dell'Italia. Lavoro, infrastrutture, giustizia, istruzione, welfare, giovani e sanità. Prevista la presenza di Marie Lafferber, vice segretaria delle PSE, che parlerà di Europa.